Vuolo. Questo è quello che poco più di due anni fa hanno scritto sulla scheda elettorale oltre 40.000 cittadini del sud Italia. Il mandato europeo è chiaro e semplice. Il deputato viene investito di un onere e un onore, impegnativi, che potrei così tradurre. Fare tutto il possibile per garantire forza e rispetto ai tuoi concittadini, alla tua nazione. Tutto il possibile significa prendere decisioni complesse, possibilmente orientate alle prossime generazioni, ma concrete. E per mantenere fede a questa logica ho deciso. Da oggi sono nel Partito Popolare Europeo, una famiglia enorme, composta da quasi 170 deputati a Bruxelles, rappresentanti di governo e referenti di spessore, disseminati in ogni angolo del nostro continente. Inoltre, il PPE sostiene l'attuale Commissione Europea, a partire dal suo vertice. Ma perché, pur rimanendo nel centro-destra, mio storico habitat, ho scelto il PPE? In questi tre mesi di silenzio ho ragionato con i miei affetti e collaboratori più cari. E cosa è emerso? È emerso che la libertà e il rispetto per i miei territori non sono negoziabili. Mai più di tutti che la mia libertà di azione nell'esclusivo interesse di ciascuno di voi non può essere sminuita in alcun modo. In questi tre mesi, così, grazie alle vostre parole e ad ogni singola telefonata che ho ricevuto, la mia posizione si è rafforzata. Da sempre abituata a ragionare con tutti, ho avuto modo di capire che sono arrivata alla decisione di oggi. Nessuno, e dico nessuno, ha obiettato la scelta che ho appena ufficializzato. È cominciato per me un percorso doveroso verso ciascuno, necessario per un dignitoso mandato, inevitabile per mantenere i miei impegni. Ma più di tutti inizia un cammino nel segno della libertà e del rispetto. Ho risolto questioni sospese, ho riallacciato rapporti con gli amici di sempre e con la risolutezza o assunto delle decisioni, che anticiperò a breve. Ho avuto modo di parlare più volte con il presidente Silvio Berlusconi e con il presidente Antonio Tajani. Con loro posso dire di aver instaurato un rapporto fondato sul rispetto e sulla correttezza. Ed è anche questo che farà la differenza per tutti noi. Ma perché te ne sei andata? Questa è la domanda più ricorrente tra militanti, amici e giornalisti. La vita non mi ha mai regalato niente. Tutto quello che ho l'ho conquistato con sudore e determinazione. A volte però per mantenere i miei impegni politici ho dovuto fare scelte radicali, ed è stato questo il caso. Da Movimento Sociale a Fratelli d'Italia, passando per AN e il PDL, quindi la Lega, ora il PPE. Complice è anche la storia politica del nostro paese. Concetti in cui credo, come la famiglia, la libertà, la patria, la lealtà, mi hanno animato in 40 anni di scelta. E mai nessuno potrà sottrarmi a giudizio della mia coscienza. Due ore di colloquio con il segretario Matteo Salvini mi hanno aiutato a comprendere la mia posizione. Matteo è una persona per bene, ma prima di un senatore e di un deputato ci sono le comunità. Ed è a ciascuno di voi che devo dare conto. Voi siete la mia coscienza, schietta e inerudibile. Nessuno può ignorare la propria coscienza, la propria anima. E se è vero come è vero che gli occhi sono lo specchio dell'anima, voglio continuare a guardarmi negli occhi. Voglio poter dire senza alcun timore di smentita di aver fatto il possibile per ciascuno di voi. Ed è così che ho ragionato. Benvenuti nel PPE, Partito Popolare Europeo. Ed ora posso guardarmi negli occhi e dirvi cosa accadrà da oggi. Queste le quattro cose da sapere. Negli ultimi tre mesi sono rimasta in silenzio e presente tra i non iscritti qui a Bruxelles, perdendo di conseguenza tutti i dossier, le commissioni, le delegazioni che mi erano state assegnate. Nei prossimi giorni vi dirò dove avrò l'onore di sedere. Nelle prossime settimane sarò in grado di dare ai nostri giovani laureandi l'opportunità di tre mesi di terrucino presso il mio ufficio di Bruxelles. Tutto questo fino alla fine del mandato. Condividere questa esperienza, dando un'opportunità a chi non può, è un gesto doveroso verso i nostri ragazzi. La scelta sarà sempre su base curriculare e con criteri tali da garantirne il merito. Abbiamo messo su uno sportello di ascolto per tutti gli amministratori locali e imprenditori del Sud, per ciò che congene la complessità dei fondi europei diretti. La base operativa è e sarà la Segreteria Politica di Salerno. Non appena l'emergenza Covid ce lo consentirà, organizzerò a Bruxelles una serie di seminari per amministratori pubblici, imprenditori e studenti, per creare reali opportunità di crescita. Saranno a mio fianco accademici e specialisti italiani, perché è così che deve essere. Concretezza, questa è la parola chiave. Sarò un lavoro e un impegno senza pari, ma è anche questo il cambio che volevo. Il virus certamente non mi ha aiutato, ma la mia volontà è più forte. Non mi spavenda di dover combattere per ciascuno di voi, perché so che ciascuno di voi è con me e come me amiamo quello che siamo, gente del Sud.